La patina a Caltagirone, che si stende ad anfiteatro su tre colline recinte da un'ampia vallata fiorita per assistere ad una caratteristica tradizione popolare chiamata in dialetto giunta, che vuol raffigurare l'incontro della Madonna con il figlio risorto. Ecco San Pietro, che dopo aver scoperto la risurrezione del divino maestro, ricercava ansiosamente la Vergine per parteciparle la lieta novella. Ed ecco l'incontro, Maria ha lasciato cadere il manto a lutto che la ricopriva e si inchina dinanzi al Cristo, mentre la folla che si assiepa lungo la grandiosa e ripida gradinata dell'ex ematrice saluta l'incontro con lo sventolio di mille fazzoletti. La scoperta